Inizieranno dal mese di novembre le prime collaborazioni con le scuole per realizzare l'edizione 2024 del Festival Fotografico Europeo. In cabina di regia l'Affi nella persona del presidente Claudio Argentiero, che ha già preso contatti con i licei di Busto. Gli studenti saranno coinvolti sia nell'ambito di conferenze, sia in progetti fotografici che culmineranno in esposizioni durante la rassegna. Una relazione diciamo costruttiva con le nuove generazioni che nascono tecnologicamente avanzate e che hanno bisogno però di essere educati per costruire dei percorsi visivi stimolanti e soprattutto che riescano a comunicare la propria sensibilità.